Il percorso ad anello di 6 km, tenutosi lo scorso giovedì 28 dicembre, ha condotto i 50 partecipanti della pastorale del turismo dell'Arcidiocesi di Oristano attraverso i pittoreschi borghi di Sorradile, 350 abitanti, e Pidoni, 20 abitanti, per poi raggiungere la chiesa campestre di San Basilio. Al cammino si sono uniti anche un universitario della Repubblica Dominicana e un giovane studente iscritto al corso di comunicazione nell'Università Santa Croce di Roma, che ha trascorso le festività natalizie come ospite della parrocchia di San Veromilis. Prima di iniziare il cammino, Don Ignazio Serra, ideatore e organizzatore dei cammini, ha recitato la preghiera del pellegrino. Subito dopo, i partecipanti si sono messi in marcia verso Pidoni. Nella chiesa campestre di San Basilio hanno ammirato un presepe permanente realizzato dal maestro di Trachite. Il percorso ha proseguito in salita attraverso la natura incontaminata, offrendo ai pellegrini una panoramica mozzafiato tra leci, sugherette, vigne e alberi da frutto. Dopo un'ora di cammino, il gruppo ha fatto ingresso nel cortile della chiesa di San Basilio, dove sono presenti muri stenes che un tempo garantivano un tetto ai novenanti. Grande emozione anche nel visitare la parrocchiale San Sebastiano di Sorradile, una delle poche chiese sarde che conserva ancora gli arredi originali del XVII secolo. L'edificio, costruito dai locali con maestria utilizzando la pietra locale, ha affascinato i pellegrini per la sua storia e bellezza. Significativi anche gli ex voto dietro l'altare, testimonianza delle richieste di guarigione rivolte a San Basilio. Dopo la recita della preghiera per la terra, il gruppo ha ripreso il cammino verso Sorradile, raggiungendo la parte più alta del paese, la via San Michele e visitando l'omonima chiesa che offre una vista straordinaria sul lago Omodeo. I prossimi cammini sono in programma per domenica 7 gennaio nelle campagne di Pauli Latino, il 14 sarà la volta di Sedilo e il 21 di Aido Maggiore.